La Regione Piemonte quest'anno ha deciso di iniziare la costruzione di una strategia per il contrasto dei cambiamenti climatici. Questa strategia si colloca all'interno delle strategie europee e delle strategie nazionali. La strategia sarà costruita e costituita da un gruppo di lavoro interdirezionale, quindi interdisciplinare. La strategia non vuole essere una riduplicazione di piani o strategie o di altri strumenti già esistenti, ma vuole costituire la cornice entro la quale tutte le attività e le programmazioni, nonché le pianificazioni regionali, possano collocarsi e riconoscersi. L'attività è iniziata quest'anno con una serie di incontri formativi che vedranno la prima seduta il 13 dicembre e continueranno fino a marzo. Ci contiamo di costruire un documento che metta insieme tutte le tematiche che vengono discusse all'interno della Regione Piemonte e ci apriremo in questo nostro lavoro anche altri soggetti che lavorano già su questo tema. Ed è per questo che partecipiamo e cerchiamo di essere attenti ai progetti europei come questo presente di Artaclim. Grazie a tutti.